Ciao a tutti, io sono Sofia e voi siete dei Pantere e come avrete letto dal titolo oggi andremo a fare la top 5 di lui vado a prendere subito il libro libro eccolo, così matita e iniziamo la top 5 ecco c'era quella di Sofia bella, divertente furba, pazza e gentile e poi quella di lui bella divertente furbo pazza gentile praticamente è lo stesso di Sofì è lo stesso e è vero quindi io ho scelto così di farlo qua allora noi facciamo questa noi due siamo fidanzati ci vogliamo molto di bene coloro tutti i cuori che vedi io li sottolineerò o li cerchio non so li sottolineo uno due cinque 17 cuori in tutto poi andiamo a fare questo è un messaggio che ci ha mandato una fan siete fantastici mi fate divertire sempre fate ridere e anche se siamo tristi ce ne fate tornare il serizzo vi adoro hai ricevuto anche tu un messaggio speciale ricordialo qui a fianco sì un cuore ti voglio ecco ragazzi ho ricevuto un cuore la parola ti voglio la frase perché parola allora se vicino all'estate come è questo ideale? beh mare e piscina a voi piace di più la piscina o il mare a me più la piscina sinceramente voi un giorno vi spiegherò comunque e aiuto il video di oggi il video di oggi il video di oggi il video di oggi si conclude qua domani vi farò vedere la mia tabella di marcia e niente ci vediamo domani ciao guardate devo passare sempre il libro ovvio